Sono venuti dopo di me, sono stati interventi che ho particolarmente apprezzato, veramente nei contenuti e mi porto a casa moltissimo da questa serata e quindi grazie davvero. Ma parto dalla seconda domanda, che è quella diciamo più semplice, anche se pare essere la più difficile, come si è riuscito a sconfiggere l'avversario, anche se diciamo che in politica è più che vincere e perdere, è rappresentare le persone, noi siamo imparati di rappresentare le persone, quindi come siamo riusciti a essere più rappresentativi della coalizione del centro-destra? Tenete conto che abbiamo fatto sul filo di lana, perché su 48 mila cittadini abbiamo 35 mila potenziali elettori, abbiamo metto per 31 voti. Piccolo aneddoto, c'eravamo anche sbagliati, perché quando eravamo in sede elettorale abbiamo stappato il prosecco e a un certo punto ci siamo accorti che un dato da una sezione è arrivato invertito e quindi pensavamo di aver vinto 360 voti e alla fine abbiamo scoperto che si assottigliava il divano e si è fermato a 31, quindi un attimo di manico perché cercheranno già le foto del sindaco e potevano essere il sindaco che stappava. A parte questo dettaglio, noi abbiamo fatto un lavoro che, io per esempio sono espressione della sinistra della città e abbiamo fatto 5 intesi di opposizione a una giunta di centro-sinistra. Poi abbiamo scelto di partecipare invece a un percorso coalizionale dove abbiamo condiviso dei punti centrali dei temi. L'avete detto voi stasera, l'avete detto chiaramente, bisogna partire dai temi e dalle via di città. Avevamo una via di città condivisa che era quella di una città sostenibile, bella, solidale e grande. L'abbiamo ripetuto in tutte le salse e una volta condiviso le finalità, condivisi gli obiettivi, abbiamo costruito un percorso bello, partecipato, con i soggetti del territorio, delle realtà e ora in amministrazione devo dire che tutti ci davano per spacciati perché la sinistra sarà ideologica e riottosa, gli ambientalisti si ammaletteranno agli alberi, i cattolici faranno delle battaglie di opinione su tutti questi temi, in realtà niente di tutto ciò, c'è molta condivisione, c'è un idea che alle città e stiamo lavorando benissimo. L'obiettivo, il segreto io credo, sia quello di condividere un dia di città e di sapere che nessuno ha 50% più uno della maggioranza, ognuno di noi sa che è rappresentativo ed è importante che rimanga rappresentativo di quella parte della città, perché se no a quel punto verrebbe meno vantaggio di essere in una coalizione, ma deve sapere che a un certo punto bisogna ammettare tra tutte queste sensibilità. La prima domanda, se l'ho capita, poi eventualmente mi farà accendere con la testa, sì o no, dividere in due parti. Come siamo riusciti a garantire una partecipazione da parte della città nelle scelte per quanto riguarda l'area del welfare? Noi veniamo ad un'esperienza che è un po' particolare, è un piccolo dettaglio tecnico, però penso che sia facilmente comprensibile. Noi abbiamo lavorato negli ultimi anni in una modalità che è la coprogettazione, dunque è un rapporto molto stretto tra l'area dei servizi sociali e il mondo del terzo settore che ha garantito la possibilità di tutte le cooperative, associazioni, cittadini singoli che hanno portato un contributo importante in termini di lettura del bisogno e poi di corresponsabilità nella risposta, fino a creare un'esperienza, un modello che è il modello dell'impresa sociale, dove il pubblico non è semplicemente il soggetto che dà l'orientamento politico, ma è anche all'interno dell'impresa sociale, che è un mix tra mondo del terzo settore e comune, ed è anche presente nell'erogazione del servizio. Non è semplicemente il pubblico che fa l'appalto e delega poi alla cooperativa del terzo settore la derogazione del servizio, ma rimane presente anche in tutte le fasi dell'offerta del servizio. Questo io penso che sia importante anche per bypassare quelle fragilità, quelle difficoltà di cui si parlava, per cui a volte il rischio è quello di incastrarsi negli uffici che costruiscono un appalto e una volta costruito l'appalto, quando è finito e assegnato, è finito, se ne fregano. Noi invece continuiamo a essere presenti in tutta la fase e durante la pandemia questo è stato molto importante, perché immaginatevi un comune che ha fatto un appalto e che banalmente non prevedeva risorse per igienizzare, per mascherine. Molto spesso è capitato, anche in altre parti mi hanno raccontato la cooperativa, il soggetto che fornisce il servizio, che si presenta e dice, hai capitolato e questo non è presente, quindi o metti altre risorse o vi fai una gara o se no io non blocco il servizio. Allora in questo non è accaduto perché c'è una storia di collaborazione importante. La seconda parte della risposta è un po' quello che per quanto riguarda la valutazione del rione, delle comunità locali, è quello che è un po' emerso in tutta la serata, per la scelta di costruire delle città policentri, come è stato detto dal rappresentante di Lega Ambiente, noi abbiamo appunto questa fortuna di rioni dove ci sia una dimensione che rende possibile riconoscersi in termini comunitari, non c'è il nuovo intervento iniziale, la costruzione tra le tante cose che servono per mantenere queste relazioni, questo approccio comunitario che sono i servizi, la scuola, il trasporto, il punto verde, tutto quello che sappiamo che è necessario, la scelta di costruire queste case di quartiere che erano quei luoghi che mi pare che in qualche modo evocasse anche dove è giusto nessun intervento, degli spazi, dei luoghi che sono veramente strategici, dove le persone possano incontrarsi e condividere delle esperienze e dove il comune, noi abbiamo scelto concretamente di starci, c'è un'esperienza bellissima secondo me dove una scuola per la curva demografica calante è stata chiusa, i cittadini si sono ingaggiati insieme al comune che ha messo le risorse per garantire di mantenerla aperta, però trasformandola in casa di quartiere, il luogo dove quel rione rischiava di perdere il luogo di legazione fondamentale come è una scuola, è stato trasformato in uno spazio recattivo dove ci sono servizi per la disabilità, pasti per gli anziani, pasti condividi per gli anziani, momenti di ritrovo per i ragazzi del rione, lezioni in italiano per stranieri e tutta una serie di attività che permettono in questo luogo, in questo spazio, di mantenere un cuore pulsante nel rione che permette che le vite che molto spesso scorrono parallele si incrocino e da lì si genera valore, una volta che tu hai creato, io credo il comune ha creato un luogo, uno spazio e ha fatto partire il meccanismo, poi è l'umanità che è capace di generare le cose più belle, basta dargli la possibilità e gli spazi per esprimersi. Non so se ho risposto alla domanda. Quindi non ci sono strutture formali, non c'è il rapporto? Allora, strutture formali, noi abbiamo trasformato i nostri servizi, poi adesso si parla tanto di nuove professionalità nel mondo del welfare, è una professionalità che io apprezzo moltissimo e su cui noi stiamo investendo delle risorse economiche come comune di Lecco, è quella dell'attivatore di comunità, sono delle tip, non è più il tempo in cui noi possiamo pensare che si manifesti il bisogno e noi rispondiamo al bisogno, perché in quel caso sarà sempre una dinamica individualista e ci sarà il cittadino che si pone in una posizione subordinata e attende che gli si eroghi una prestazione. Dobbiamo uscire dalla vittoria della prestazione e quindi questi attivatori di comunità hanno il compito non tanto di erogare una prestazione, un battaglio di minutaggio e di costo orario, ma di arricchire, costruire, accompagnare, come i custodi sociali, i cittadini nel creare delle reti che gli permettano di non cadere in una situazione di bisogno. Noi abbiamo cittadini che magari arrivano per una richiesta economica e il vicino di casa che potrebbero finire un posto di lavoro. Abbiamo persone che arrivano per una richiesta abitativa e si diceva buonissimo abbiamo un migliaio di appartamenti sfitti in cittadino. Come fai a permettere che quelle case non rimangano case sfitte ma case occupate? C'è un punto di sfiducia gigantesco delle persone che affittano gli appartamenti. Noi ci siamo accorti che tu crei la possibilità di costruire l'azione, ti puoi come comune come garanti questa cosa, ci credi, ci investi e garantisci che questa è una cosa su cui ci stai dentro e non abbandoni il campo, a quel punto le persone si aprono, sono disposte a mettere a disposizione un lavoro, una casa, accompagnare le persone e poi è un meccanismo che genera valore e si autalimenta. Grazie Emanuele, do la parola a Sermo per un previnciamento contenuto.